In una recente intervista, l'ex opinionista del Grande Fratello VIP Giulia Salemi, ha rivelato se tornerà nello studio di Canale 5. Ormai anche l'ultima edizione del Grande Fratello, è giunta al termine da più di un mese, e il pubblico di Canale 5 non vede l'ora di scoprire cosa riserverà la prossima che partirà a settembre. I telespettatori non stanno più nella pelle e sono curiosissimi di scoprire novità, indizi, anticipazioni, cast e tutto quello che c'è da sapere prima del debutto della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini. A tal proposito, chi ci sarà al fianco del conduttore? Chi saranno gli opinionisti o si tornerà per una sola opinionista come è accaduto per l'ultima edizione appena conclusa? Non a caso di recente l'ex opinionista social del reality di Canale 5 Giulia Salemi, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è tornata a parlare del GF e della possibilità di fare ritorno nel programma. Grande fratello, Giulia Salemi tornerà a settembre? Nel corso dell'intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, l'ex concorrente nonché ex opinionista social del reality di Canale 5, ha ricordato gli esordi della sua televisione, da quando ha partecipato a Miss Italia fino a quando si è trasferita a Milano. Ecco che cosa ha dichiarato. Quando ero una modella i PR ci portavano a fare immagine nei ristoranti. Da Giannino ho conosciuto Domenico Zambelli, Emiliano come me, mi ha indirizzato verso Miss Italia. Mi sono classificata terza, con me c'era mamma, ci hanno proposto Pechino Express. Poi è stata la volta del grande fratello. Uscita dal primo grande fratello abitavo in un monolocale in Viale Jenner, zona difficile nel 2018, non ero tranquillissima. Pochi metri al piano rialzato, affaccio caotico su strada. Coinquilina era mia cugina giunta dall'Iran, quando mi sono fidanzata ho cambiato di nuovo. Oggi vivo in una zona residenziale. Appena trasferita trovai un posto vicino a Corso 22 marzo. Un letto a castello per 300 euro, in casa eravamo 10. E ancora, per essere accettata devi stare dentro al sistema moda. Spettacolo, cioè essere sempre carina, curata, con la battuta giusta come quelli che devi frequentare. St. A. Una maschera. Io sono cresciuta dicendo ciò che penso, sono vera, dunque mi dovevo frenare, camminavo sulle uova. Ho commesso errori, sì, ma a 31 anni ne ho fin sopra i capelli. Ora ho stabilità. Il mio fidanzato, due tre amici perché gli altri mi hanno deluso, la famiglia. A Milano fai un po' il patto con il diavolo. Infine, sulla possibilità di fare ritorno al grande fratello, Giulia Salemi, ha rivelato che ci tornerebbe ma ad una condizione. Da concorrente no, da opinionista sì.